Ciao a tutti cari amici del Calderone Magico, oggi andiamo a vedere una nuova carta per il tutorial degli oracoli e vediamo la carta che viene chiamata Immagina. Questa è la carta numero 20 ed è un bellissimo oracolo perché ci pone di fronte ad una riflessione molto importante che è quella di capire chi noi vogliamo essere. Cosa vogliamo, di cosa abbiamo bisogno e ci invita in un certo qual modo a immaginare quello che noi realmente vogliamo della nostra vita quindi immaginare il nostro percorso che può essere lavorativo, un percorso che può essere sentimentale, scolastico eccetera perché questa riflessione e questi spunti che noi traiamo con la fantasia diciamo ci aiutano alla creazione dei nostri obiettivi cioè la carta ti dice pensa, immagina, fantastica quello che desideri, quello che vuoi perché sta per entrare nella tua vita quindi aiuta col pensiero, aiutati col pensiero ad ottenere quello che realmente vuoi. Nelle questioni di cuore, quindi nei sentimenti, nelle relazioni ci invita a immaginare, a fantasticare, a usare la nostra anche creatività per dare un senso diciamo a quello che noi vogliamo, alla nostra vita quindi vuoi una relazione con una persona? Sognala, pensa, hai dei desideri romantici ascoltati, mescola la fantasia con i sentimenti, fai in modo che i tuoi desideri si avverino come? Sfruttando l'energia che hai in te del tuo pensiero perché questo ti porterà ad ottenere quello che vuoi quindi puoi immaginarlo perché immaginando otterrai dei risultati anche in ambito lavorativo è importante sia per la carriera, quindi per un avanzamento ma anche per dei progetti, soprattutto se una persona fa un lavoro creativo sta dicendo immagina che ce la fai, quello che tu immaginerai si trasformerà in realtà potrà essere fattibile nel lato pratico. Io spero che la carta vi sia più chiara vi abbraccio, vi invito a mettere mi piace al video ovviamente se vi è piaciuto a commentare, a chiedere magari degli spunti, a iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina così vi arrivano i prossimi video. Un abbraccio grande a tutti e ci vediamo prossimamente